Sono sulla terrazza dell'appartamento che i miei genitori hanno preso in affitto per l'estate, a Brenzone, sul lago di Garda. Ho da poco finito i compiti che la maestra ha assegnato per le vacanze. Seduto a un tavolo di plastica, sotto un ombrellone, non tira un filo di vento. Il rumore delle cicale è quasi assordante. Scarto 9. Mia nonna rimugina mentre si passa le dita fra i folti capelli biondi e poi lo prende. Lo usa per calare un tris seguito da una serie di quattro regine. Resta senza nulla e vince. Segna sul foglio i punti che mi restano in mano, poi ricompone il mazzo e serve il giro successivo. In palio ci sono 4.000 lire. Se la intasca chi fa arrivare per primo l'altro a 100. Ho delle brutte carte. Lei invece apre bene e ne cala giù 6. Io pesco male per diverse volte. Poi riesco a combinare qualcosa con quello che ho in mano e ad attaccare a quello che c'è già in tavola. Mia nonna passa per un paio di volte. Studio il quadro generale, poi metto insieme un'altra serie e scarto una donna, ma lei la raccoglie e me la restituisce. Non questa, dice. Buttane un'altra o chiudo. Accolgo il suggerimento e cambio. Lei pesca dal mazzo e poi passa. È il mio turno. Compongo un ultimo tris. Getto il Jack che mi resta e mi ritrovo senza nulla in mano. Vinco. Bravo, dice lei mentre annuisce serena. Io prendo le banconote, poi corro al bar, sul lago e mi attacco al videogame di Popeye. Parcheggio la bici sotto un albero, tra le foglie secche. Sono quasi le 13. Suono il campanello. Mia nonna mi apre. Entro dal portone, salgo le scale. Lei mi aspetta sulla soglia e già storride. Abbraccio. I suoi capelli tinti odorano di lacca. Ti sediamo al tavolo del salotto apparecchiato, dove fuma una pirofila di spaghetti. Mentre grattugio del grana. Lei mi chiede come è andata a scuola. Bene, rispondo io. Ho fatto il compito di matematica. Dovrebbe essere andato bene. Bravo, dice lei. Studia sempre, mi raccomando. Sì, dico io mentre verso l'acqua entrambi. Poi lei mi chiede dei miei amici e di come sta Filippo, mio fratello. Poi si alza, sparecchia e torna col suo caffè. Una fetta di dolce per me e un mazzo di carte. Iniziamo a giocare e dopo un'ora e diverse mani mi batte di soli due punti. Vince 12.000 lire. Sono quasi le tre. Mi dice che più tardi passano la mamma e le mie zie. Io dico che vado a giudò. Ti salutiamo. Metto il motorino in cavalletta e quasi scivolo sulla neve ghiacciata. Apro la porta di casa di mia nonna con la coppia di chiavi dei miei genitori. È pomeriggio ma c'è già buio. La vedo sulla poltrona del salotto. Il capo indietro, la bucca aperta, davanti allo schermo muto che le illumina gli occhi chiusi e il respiro affannoso. Indossa delle grosse cuffie Philips connesse alla tv con un lungo filo a spirale, nero. Il suo apparecchio acustico emette un fischio continuo e fastidioso. Mi avvicino a lei. Le tocca un braccio, piano. Lei si sveglia di soprassalto. Poi mi riconosce. Il viso si rilassa, si leva le cuffie e io le aiuto ad alzarsi. Con una mano si pettina i sottili capelli grigi scompigliati, ancora disorientata. Vado un attimo in bagno, dice mentre chiude la vestaglia. Torna dopo una decina di minuti. Io ho già messo sull'acqua per il tè. Ci sediamo al tavolo della sala. Con Maria, come va? mi chiede. Bene, rispondo io. Sabato è il suo compleanno. Il suo compleanno, ripete lei mentre serve. E cosa le regali? Una collana, rispondo io mentre prendo il piatto. Una collana che abbiamo visto in centro e che le piace. Poi andiamo al cinema. Bravi, dice lei. Mi alzo. Torno con due tazze piene e le servo. Poi metto in tavola il mazzo di carte e il notes dei punti. Vinco le prime tre mani con grande vantaggio. Poi perdo di proposito la quarta e alla quinta mi faccio buttare fuori. Mia nonna vince quindici euro. Me li consegna. Dalle a Filippo, mi dice. Le otto e mezza di sera. Percheggio l'auto sotto il glicine. Lascio le ventiquattro ore sotto il sedile. I grappoli lilla mi ronzano nelle orecchie. Salgo e apro la porta di casa di mia nonna con la mia copia di chiavi. L'appartamento è buio, anche se vuoi è ancora chiaro. C'è tutto spento. Sulla tavola della cucina apparecchiata per metà c'è un piatto con mezza simmentale e un quarto di uovo sodo. Nonna, chiamo, ma non risponde nessuno. Illumino il corridoio con il display del telefono. Arrivo nella sua camera da letto. Le tapparelle sono abbassate, ma filtra un po' di luce. Mia nonna è nel suo letto, avvolta nella coperta di lana. Si lamenta sottovoce, il volto sfigurato, i radicapelli sconvolti. Mi vede, tende un braccio e rantola qualcosa senza riconoscermi. Non capisco, mi avvicino. Caramela, dice mentre indica. Io guardo il comodino e vedo solo medicinali. Le chiedo di ripetere. Caramela, rantola ancora. Allora prendo un blister di pastiglie e glielo mostro. Lei annuisce. Glielo porgo. Divora due pillole e poi si gira su un fianco, stremata. si mette a dormire. Mia madre me lo aveva detto che la nonna negli ultimi giorni era peggiorata improvvisamente di essere preparato. Credevo di esserlo di più, mentre seduto al tavolo del salotto guardo il mazzo di carte pronto e il blocco notes immacolato, la penna accanto.